Ad essere protagonista questa mattina ad Adrano il Cirneco dell'Etna, l'antico cane da caccia che nel corso dei millenni ha subito poche modificazioni genetiche, conservando quindi le caratteristiche originali della razza. Il Cirneco dell'Etna con la città di Adrano ha un rapporto storico che risale addirittura sin dalle origini della città stessa. E questa mattina per celebrare il Cirneco si sono vissuti due momenti. Il primo a Palazzo Bianchi dove si è svolto un convegno durante il quale è stata illustrata proprio la storia che lega la città di Adrano al Cirneco dell'Etna. Con Adrano ha un rapporto che risale al 400 a.C. quando viene fondata Adrano e il tempio del dio Adrano era guardato, si ritiene secondo la tradizione, dai Cirnechi. Ovviamente non i Cirnechi che vediamo oggi, quelli attuali che sono più piccoli d'Italia, ma sicuramente erano dei cani molto più importanti, anche più fisicamente alti, più alti dei Molossi, simili a quei cani che ora ci sono per esempio nelle nazioni spagnole, i Podengo che sono tutti alti, sono dei cani ben messi. Il Cirneco per noi è importante perché è il simbolo quasi di Adrano, è una razza nazionale che abbiamo selezionato qua in Adrano e quindi possiamo dirlo tra le 15 razze, la razza del Cirneco e quella adranita. Dopo il convegno i presenti si sono spostati nella tenso struttura che si trova tra la villa comunale e il campo di calcio Duca di Misterbianco dove si è svolta la competizione. I giudici hanno sottoposto a misurazioni quant'altro gli animali per accertarne le caratteristiche fisiche per poi stilare una classifica. Sono stati 18 i partecipanti provenienti da varie parti della Sicilia. È un cane di media taglia, un cane da caccia soprattutto, un cane che utilizza l'olfatto, la vista e l'udito per cacciare ed è caratteristico specializzato alla caccia del coniglio nelle zone antistante l'Etna, quindi sulle sciarre. Però si adatta a cacciare in qualsiasi tipo di terreno. Ed è classificato come cane primitivo proprio perché non c'è stata una selezione come avviene per tutte le altre razze da parte dell'uomo che attraverso accoppiamenti seleziona un tipo, un progetto che l'uomo ha in mente di realizzare. Qui è stata la natura che l'ha selezione in questa maniera. Non si capisce, non si sa bene da che cosa provenga ma probabilmente è un cane che è stato importato almeno 2.600 anni fa dal Medio Oriente, quindi dall'Africa settentrionale. Siccome è un cane primitivo, se è tenuto in posti dove non vede molte persone e non viene socializzato, è un cane con un carattere un po' timido o quasi scontroso. Se invece viene tenuto in mezzo alla gente e socializzato come deve essere socializzato, è un cane straordinario, è un cane di grande compagnia, un cane che ama la famiglia, che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, a qualsiasi tipo di persona. Un cane veramente straordinario. L'evento organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Adrano si inserisce nelle giornate della cultura, l'iniziativa che vede al suo interno tanti momenti e che ha avuto inizio lo scorso 23 aprile e terminerà il 27 maggio. Abbiamo deciso di dedicarla a Cane Cirneco, abbiamo chiesto all'Enci di sposare questa iniziativa qui ad Adrano perché quest'anno doveva essere celebrata a Selinunte perché si tratta di un raduno nazionale, quindi sponsorizzato dall'Enci, dalla Federazione Nazionale Cinofilia italiana e quindi inserito nei circuiti nazionali. Abbiamo avuto il convegno all'interno di Palazzo Bianchi dove gli esperti del campo, Velardi che è il presidente dell'Associazione Ceneco dell'Etna e Sicilia Antica con il suo presidente Vincenzo Neri che ringrazio mi hanno sostenuta in questa iniziativa. Il cane di Adrano, il cane che custodiva, ci racconta la storia, il tempo del dio Adrano nel cane il miglior amico dell'uomo e chi come me ama gli animali e ancora di più oggi gioisce per questa bellissima iniziativa con la presenza di tutti questi animali che rappresentano peraltro un bene immateriale e assieme a tanti altri della regione Sicilia e quindi rappresentano l'identità siciliana, l'identità adranita. Quindi viva il Cirneco, viva Adrano!